tutta la storia si svolge nell'interno della donna qui si forma l'ovulo femminile senza spermatozoi l'ovulo si annoia a morte ma ecco che arrivano essi lottano per raggiungere l'ovulo a Gli acidi della vagina hanno eliminato i sopravvissuti La fecondazione non è avvenuta Questo è un anticoncezionale Non è avvenuta E questa invece è la pillola Ma un bel giorno però Ecco il vincitore Ora c'è la prova dell'intelligenza Quattro Quattro Madonna Finalmente la fecondazione è avvenuta Quattro Sarà femmina o maschio? Quattro 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 La visita ginecologica Quattro 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 No, 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 no. E dopo nove mesi è l'ora di nascere. E dopo nove mesi è l'ora di nascere. Ecco fatto, il bambino è nato. Il bambino è nato. Il bambino è nato. Il bambino è nato.